Quando Startup Grind in partnership con Google mi ha chiesto di fare un workshop sul marketing ho pensato a quella miriade di buffoni che sfrecciano sulle home di social network e dicono ciao ti insegno io a fare soldi magari in un mese, in una settimana o in dieci minuti. Io sono 15 anni che mi sveglio tutte le mattine, studio, creo, sperimento, sbaglio, cado, mi rialzo, viaggio in giro per il mondo da ascoltare le strategie innovative di grandi uomini d'affari. Quindi ho pensato cosa posso insegnare in un corso sul marketing di tre ore? Sicuramente posso passare ai miei interlocutori così come lo sono stato io tante volte. La breve storia della pubblicità, cosa è successo negli ultimi 50 anni, su cosa si è investito, ma soprattutto come è cambiata negli ultimi 5 anni e poi come produrre contenuti cross mediali che ci aiutino a brandizzare con storytelling, fototelling, videotelling e webtelling, ma soprattutto passargli un grande segreto, il segreto del tempo, perché è essenziale avere la possibilità di fare una passeggiata in bici la mattina o una colazione senza pensieri e leggere dieci pagine di un libro, magari neanche di marketing o di business, di letteratura, di filosofia, che ci aiuti nella creazione della nostra strategia di mercato. Perché le idee, quelle vere, sono semplici, etiche e al contempo straordinarie. Però queste idee si possono avere solo se si è in pace con se stessi. Se si ha la possibilità di dedicare al proprio relax tutto quello che gli uomini di business che incontro io ogni giorno, nevrotici, stanchi di esistere, che non sanno più nemmeno perché fanno quello che stanno facendo, non hanno più. Quindi vi aspetto sabato 26 ottobre nella sala consigliare della provincia di Teramo per il marketing visionario e il segreto del tempo. Grazie. Grazie. Grazie.